buongiorno avete voglia di diventare agenti segreti in missione speciale e allora ascoltate bene si è sparsa in giro la voce che sapete tante cose sulle forme le forme geometriche si sanno tutti che conoscete benissimo il quadrato il cerchio il rettangolo ed infine il triangolo per giocare avrete bisogno solo di particolari lenti a chiappa forme per realizzarle fatevi aiutare da mamma papà o da fratellini sorelline più grandi guardate bene guardate bene vi faccio vedere come farlo disegnate sul cartoncino colorato e successivamente ritagliate le vostre sagome delle lenti a chiappa forme attenzione prima di ritagliare la parte interna praticate un piccolo foro proprio al centro della figura e iniziate a ritagliare da lì se non avete cartoncino colorato a casa andrà bene lo stesso la scatola delle scarpe o dell'altro cartone eccoci avete gli attrezzi del mestiere e allora adesso non ci resta altro che trasformarci in agenti segreti e andare in missione speciale eccomi qua così non mi riconoscerà nessuno sono pronta per andare a caccia di forme comincerò guardando l'intorno e cercando tutto quello che è di forma rotonda avete voglia di giocare con me e allora forza piccoli agenti segreti andiamo in giro e e acchiappiamo tutte le forme a a c a a Grazie a tutti